Siamo insieme al dirigente scolastico dei licei Mazzini di Locri, il dottore Francesco Sacco. Iniziativa questa mattina di consegna di questo materiale per alunni, studenti che frequentano questa scuola, un'iniziativa voluta fortemente dalla ditta Colmax del signor Gullaci. Diciamo un mirabile esempio di fusione tra il privato ed il pubblico. Quando ci sono aziende che hanno questa intenzione di esaltare anche le qualità degli alunni, di mettere in evidenza il mondo dello studio, è sempre un fatto positivo, Presi? Certamente, non è una novità. Noi avevamo intrapreso già un'iniziativa che poi a causa della pandemia non siamo riusciti a portare a termine. Infatti c'erano delle borse di studio che avevano elargito sempre l'azienda. Non è stato possibile, ripeto, l'anno scorso portarla al termine. Quest'anno invece ci danno la possibilità, daranno la possibilità a quattro ragazzi, tre delle licei Mazzini di Locri e uno dell'istituto comprensivo, 5 Marti di Geraci, di beneficiare dei tablet che sappiamo che oggi con la didattica a distanza, con la didattica integrata diventano uno strumento essenziale. Certamente è importante, noi vediamo al Nord Italia che quando ci sono delle difficoltà spesso le imprese e le aziende sono vicine ai cittadini e da noi è più raro questo, quindi è ancora più nobile e apprezziamo tantissimo il gesto. Voglio ringraziare anche, oltre al Dottor Gullaci, anche Pier Giorgio Romeo che è stato alunno di questa scuola e praticamente è senza soluzione di continuità, continua ad appartenere anche lui, oltre ad essere un collaboratore del Dottor Gullaci e sempre uno studente di questa scuola. Questi tablet, noi già abbiamo dei tablet che il Ministero ha provveduto a darci dei fondi, abbiamo comprato tanti tablet necessari e li abbiamo dati in base a delle graduatorie. Sicuramente questi tre del liceo Mazzini saranno dati in comodato d'uso gratuito e rimarranno nel patrimonio della scuola e li daremo a chi ne farà richiesta e ne avrà bisogno. Per quanto riguarda invece quello della donazione dai 5 marti di Giorgio, lo daremo ad un ragazzino di Canolo diversamente abile e già abbiamo preso accordi. In questo senso non entrerà nel patrimonio della scuola ma faremo una donazione direttamente a questo ragazzino. Siamo insieme a un collaboratore dell'azienda Colmax, Pier Giorgio Romeo, ci diceva il preside, ex studente di questa scuola, tanti ricordi, e poi soprattutto legarli a questa iniziativa particolare, nel senso che così facendo poi aiutate anche degli studenti a potersi garantire, quantomeno la didattica a distanza. Sì, io sono stato studente qui, ho avuto la possibilità di crescere, di formarmi, di studiare e infatti ringrazio tutti i professori che è il preside Sacco con cui ho avuto la possibilità di collaborare quando sono stato rappresentante. L'iniziativa invece adesso, ben torno a scuola in altre vesti come collaboratore proprio dell'azienda, come dell'azienda Colmax e Meridionale Intonaci, che è un'iniziativa scaturita da un periodo diciamo particolare, quello che stiamo vivendo, che tutti i ragazzi, tutti gli studenti stanno vivendo, in primis anche i figli degli amministratori promotori dell'iniziativa, gli amministratori Cosa Tontanella e Gula Cinicola, che vivendo quotidianamente, nella quotidianità, il disagio tra virgolette della didattica distanza, si è pensato proprio a come gestire, come venire incontro a tutti quegli studenti che magari vanno incontro a delle difficoltà, delle famiglie, comunque le famiglie che sono in difficoltà in questo periodo. L'iniziativa lodevole da parte di un'azienda del territorio che fa questo dono alla scuola e va incontro appunto alle esigenze delle persone in difficoltà, soprattutto in questo caso di uno studente diversamente abile, che viene messo in condizione anche di poter lavorare meglio a distanza, grazie anche a questa nuova strumentazione messa appunto a disposizione gratuitamente, quindi un bel segnale nei confronti della scuola, un bel segnale anche nei confronti delle persone in difficoltà, e quindi un applauso a chi ha promosso questa iniziativa. Per quanto riguarda la scuola, auspichiamo che con l'inizio del 9 anno, al 7 gennaio, si possa ritornare in presenza, anche perché tutti i nostri giovani stanno soffrendo per questa nuova organizzazione, questa didattica a distanza necessaria sicuramente per garantire meglio il diritto alla salute. Ci sarà il problema dei trasporti che dobbiamo affrontare, stiamo già ragionando con il prefetto di Reggio Calabria, perché tra loro e Siderno ci sono circa 4.000 studenti pendolari e con i mezzi di trasporto che sono ridotti al minimo sui nostri territori, sarà sicuramente un problema. Stiamo già ragionando, ci sono le tavole di concertazione e cercheremo di creare le condizioni necessarie affinché tutti gli studenti possano tornare in aula in presenza. E' questo il nostro obiettivo, sappiamo che non è una cosa molto semplice, però ci stiamo lavorando con grande impegno. L'importante in ogni caso è superare questa fase difficile della pandemia che ci rendiamo conto sta creando molto disagio anche nella logica, ci sono tantissimi casi tra positivi e sintomatici. Io approfitto di questa occasione per rinnovare la prudenza a tutti anche in prossimità delle prossime vacanze natalizie, per il periodo di festa. Serve prudenza da parte di tutti. Siamo solamente noi, attraverso le nostre azioni, il nostro comportamento possiamo tenere lontano il Covid.